I militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale, NIPAF, del gruppo Carabinieri Forestale di Pescara, hanno posto sotto sequestro una discarica abusiva di circa 700 metri quadrati, oltre ad aver depositato presso la Procura della Repubblica di Pescara una denuncia contro ignoti per incendio boschivo e gestione di rifiuti non autorizzata in località Terra Rossa di Cappelle sul Tavo. Il ritrovamento è avvenuto a giorni di distanza dall'incendio del 4 agosto scorso, che per parecchie ore ha tenuto con il fiato sospeso un'intera popolazione interessando una decina di ettre di vegetazione tra boscata ripariale, cespugliata ed erbacea secca. I complessi accertamenti in sede di sopralluogo, oltre ad alcune testimonianze contrastanti, finora non hanno consentito di individuare il responsabile dell'incendio boschivo, visto che ancora non è stato possibile stabilire con precisione la superficie percorsa dall'incendio. Il punto d'innesco ed il suo andamento sul terreno, condizionato dal forte vento e dalla presenza dei numerosi rifiuti presenti nell'area. Invece, le fiamme hanno portato alla luce una discarica abusiva, nella quale sono stati ritrovati rifiuti combusti di varia natura, tra cui pneumatici, rifiuti ingombranti, materiali edilizi di scarto più o meno interrati, lastre di Eternit ed un'autovettura con targa parzialmente leggibile. A complicare ulteriormente l'opera di accertamento dei forestali, la presenza sul posto di numerose e diverse strutture interessate o minacciate dal fuoco, abitazioni varie, un ex maneggio abbandonato, un impianto di lavorazione di inerti, terreni coltivati su un ex di scarica comunale. L'autorità giudiziaria competente, ha dichiarato il comandante del gruppo Carabinieri Forestali di Pescara, è stata informata dell'accaduto, anche con apposito fascicolo fotografico, ed è stata richiesta la possibilità di effettuare ulteriori particolari attività di indagine necessarie all'accertamento dei responsabili sia dell'incendio che della discarica abusiva.